TSO allo studente di Fano, seri, ragazzo in ospedale di sua volontà. Viale Trieste, isola pedonale, commercianti perplessi. Ancora vandalismi al Pentagono, residenti chiedono telecamere. Parco Scarpellini, nuovo scivolo donato dalla Gulliver. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è mercoledì 12 maggio, in apertura andiamo a Fano e apriamo questa edizione parlando di un caso che proprio dalla città della Fortuna ha avuto una cassa di risonanza a livello nazionale. Il trattamento sanitario obbligatorio non è correlato alla volontà di non indossare la mascherina in classe. Sono queste infatti le testimonianze e le affermazioni del sindaco di Fano, Massimo Seri, che questa mattina ha deciso di intervenire sul caso dello studente, il 18enne dell'Istituto Olivetti, che nei giorni passati aveva deciso di non indossare il dispositivo di protezione individuale durante le lezioni e che successivamente era stato sottoposto a TSO. Il primo cittadino fanese che ha approvato il trattamento sanitario proposto dai medici ha smentito tutte le versioni dell'accaduto rese notte fino ad oggi. Il giovane infatti avrebbe deciso autonomamente di uscire dalla scuola, smentendo quindi la versione secondo cui il ragazzo sarebbe stato prelevato all'interno dell'Istituto da parte delle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal primo cittadino all'arrivo della polizia, il 18enne aveva già incontrato i referenti sanitari intervenuti sul posto e aveva deciso in maniera volontaria di recarsi in ospedale insieme a questi. La richiesta da parte del personale medico di attivare il trattamento sanitario sarebbe arrivata soltanto in un secondo momento per quanto accaduto all'interno dell'ospedale, fatti che però non sono stati resi noti per tutelare la privacy. E come ogni sera il consueto spazio dedicato agli aggiornamenti dei dati Covid, dei contagi Covid nella nostra regione Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.100 tamponi, di cui 2.602 con un rapporto positivi testati pari all'8,8%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 230 con 84 casi in provincia di Pesaro Urbino, 4 invece i decessi notificati ieri sera dal servizio Sanità della Regione, tra questi un 88enne di Fano. Ed ora occupiamoci di Viale Trieste che per il secondo anno consecutivo si prepara ad un'estate in Isola Pedonale, un'iniziativa fortemente caldeggiata dal Comune di Pesaro, ma che fa storcere il naso a commercianti ed associazioni di categoria, escluse proprio dal processo decisionale. Ci troviamo in Viale Trieste, siamo a 20 giorni dal provvedimento che scatterà il primo giugno, la pedonalizzazione di Viale Trieste, una zona traffico limitato perdurante per tutto il periodo estivo, che appunto scatterà il primo giugno come da disposizione del Comune di Pesaro, Comune che crede fortemente in questa iniziativa. Non ci credono però tutti i commercianti, alcuni soprattutto stigmatizzano il fatto di essere stati esclusi dalla concertazione di questo provvedimento. Non ci ha interpellato nessuno, quest'anno ancora di più rispetto all'anno scorso non c'è stata la concertazione. Noi l'anno scorso abbiamo lavorato con loro, poi alla fine della stagione, per capire quali erano stati gli elementi critici rispetto al fallimento dell'isola pedonale dell'anno scorso. Abbiamo presentato le proposte, le nostre proposte sono state tutte rigettate, non è stata presa una in considerazione. Quest'anno, a 20 giorni, non abbiamo ancora ricevuto l'invito per la presentazione del progetto. L'unica cosa che chiediamo è almeno di sapere che cosa succederà. È tutto per sentito dire, ma noi vorremmo avere il progetto in mano e guardarlo insieme a loro e capire come dovremmo lavorare durante l'estate. Non siamo stati contattati preventivamente da nessuno e la subiamo, ma più che altro ormai quello che ci preme è capire quali saranno gli arredi urmani per poi poterci organizzare di conseguenza spazi, panchine, attività, organizzazioni di eventi. Di cosa si parla qui? Non abbiamo saputo niente da nessuno. Una soluzione intermedia che magari avreste condiviso sarebbe stata quella non di 24 ore su 24 di chiusura, ma di una chiusura parziale. Esatto, sì. Secondo me già sarebbe stato più allettante, mettiamola così, per noi perché tutto il giorno è veramente pesante, soprattutto adesso io parlo per la mia attività che comunque è un mordi e fuggi, il cliente entra e esce, purtroppo non può più in questo caso arrivare col motorino, con la macchina volante e compra qualcosa, però già mezza giornata di viabilità e mezza isola pedonale l'avrei vista un pochino più positivamente. Dalla zona mare ci spostiamo alla zona più residenziale pesarese del Pentagono, dove alcuni ingressi condominiali hanno subito atti vandalici e purtroppo non è la prima volta. Tornano a ripetersi e ad essere segnalati episodi di vandalismo al Pentagono. Nello specifico, nella notte tra lunedì e martedì, ad essere stati presi di mira sono stati due condomini, uno situato in via Ariani, l'altro in via Veretti. I residenti delle due palazzine hanno allertato la polizia locale dopo aver avvertito il grande trambusto proveniente dall'ingresso degli stabili. All'arrivo degli agenti le amare scoperte. I portoni di ingresso dei due stabili sono stati fortemente danneggiati, con le vetrate sfondate per quello del condominio di via Veretti e parzialmente distrutte invece per quello di via Ariani. Per risalire agli autori del gesto, gli agenti hanno subito dato il via alle indagini e ai controlli, potendo usufruire anche delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti nelle palazzine. Secondo le prime ricostruzioni derivanti dalla visione dei filmati, sarebbero tre le persone protagoniste degli atti vandalici. I tre individui, dopo aver danneggiato i due portoni, sarebbero riusciti ad allontanarsi dall'area prima dell'arrivo e dell'intervento dei vigili. I residenti affermano che quelli intercorsi la scorsa notte non sono episodi singoli o isolati, ma rientrano nell'ampio quadro di atti vandalici che da diverso tempo vengono segnalati nell'area. In merito a ciò, nel quartiere Pentagono Celletta, a partire da gennaio, è iniziata da parte dei residenti una raccolta firme per chiedere al Comune l'installazione di nuove videocamere di sicurezza. L'iniziativa, documentata dalle nostre telecamere già dalla sua nascita, ha avuto origine dopo gli atti vandalici riscontrati contro alcune automobili parcheggiate e dopo anni di segnalazioni relative a danni e disturbo alla quete pubblica nel parco Baden-Powell. Ad oggi sono state 181 le adesioni raccolte e le raccomandate sono state inoltrate al sindaco di Pesaro Matteo Ricci e al prefetto Vittorio Lapolla. E per fortuna, al contrario di questi atti incivili che abbiamo appena visto, si moltiplicano in città gesti di grande senso civico, come quello della Onlus Gulliver, che grazie alla sua iniziativa Altro Giro ha donato uno scivolo per bambini al parco Scarpellini di Muraglia. Altro giro, l'invito ai cittadini pesati di portare gli abiti che non usano più all'Onlus Gulliver. Noi attraverso i nostri quattro sedi doniamo queste cose a famiglie bisognose e in più vendiamo anche queste cose ai cittadini sensibili. Con il ricavato, la prima opera è il parco Scarpellini. Nei prossimi giorni inaugureremo altri due giochi, quindi tenteremo di farlo un gioco al mese nei parchi cittadini. Quindi il riscontro, l'oggettivo che le persone ci portano a loro donazioni e il gioco nel parco. Quindi un progetto che sta funzionando molto bene, i cittadini l'han capita. Noi però invitiamo qui pochi che ancora non lo sanno a portare nelle sedi della Gulliver, via Toscana, piazza Redi e nelle sedi di via Rossi, gli oggetti, vestiti, abiti, qualunque cosa non usano più, ma può essere riutilizzabile e finisce il progetto all'altro giro. Quindi si rigira per la comunità l'economia che facciamo con questi beni. È una città che gioca, è una città che si diverte, è una città che si diverte nel verde e grazie appunto a Gulliver abbiamo iniziato questo percorso, è iniziato già lo scorso anno attraverso la donazione di un'altalena inclusiva, oggi ci regala uno scivolo che abbiamo installato al parco Scarpellini che è il parco dove la Gulliver è nata col suo mercatino di riuso. Hanno in progetto altri interventi, sempre in vari quartieri della città, ovviamente è un'economia circolare che hanno creato, quello che la gente non usa e non butta, magari lo porta nei punti di raccolta della Gulliver che viene dato, insomma, il ricavato, viene rigirato insomma in qualche modo alla città come attraverso la donazione di questi parchi giochi. E l'inaugurazione dello scivolo al parco Scarpellini arriva cinque giorni dal taglio del nastro di un altro parco giochi, quello totalmente inclusivo del Miralfiore, al quale nei giorni scorsi si è seguito un sentimento di sdegno virale su Facebook in seguito a un infelice commento sul profilo dell'assessore Enzo Belloni. Io non mi illudo che si possa ricredere una persona che ha scritto una cosa del genere. Noi dobbiamo ringraziare la ditta Renco che ci ha regalato un parco totalmente inclusivo e leggere quel commento proprio fa male allo stomaco perché io penso che in questi anni di assessorato ne ho ascoltate tante critiche, complimenti, critiche a prescindere, gente che si diverte, gente che ti dice bravo anche se non lo pensa, ne ho sentite tante, però una così cattiva proprio fa fa male e del resto la risposta della comunità sui social è stata univoca, io penso. L'obiettivo che avevamo è quello di riuscire a sviluppare in città situazioni inclusive il più possibile. Alla prima che si fa già la polemica, questo ha scritto che per accontentarne uno se ne scontentano le 199, magari forse non voleva nemmeno dire quello che ha scritto, mi auguro almeno, visto la professione che fa. Forse si è sbagliato, però non ha corretto il tiro, anzi ha continuato sulla sua polemica, vabbè io non cambierei un capello con lui, continuo a pensarla in questo modo qua, continuo a pensare che l'intervento che è stato fatto è un intervento vincente, soprattutto dal punto di vista culturale, è chiaro che non finiremo lì, poi magari metteremo nel parco altre talene, altri scivoli, come è successo anche oggi. Ripeto, però leggere certe cose mi ha fatto veramente schifo. Si chiude con oltre 400 servizi il lavoro della protezione civile di Pesaro nel primo quadrimestre del 2021. 2000 i volontari impiegati in questi mesi in tutte le attività svolte dal gruppo comunale per supportare la collaborazione con il personale sanitario per vaccinazioni, screening nelle scuole e drive tamponi. Oltre 1040 le unità impiegate soltanto nei servizi di carattere sanitario, la protezione civile di Pesaro ha inoltre collaborato con il personale della polizia locale per garantire il distanziamento sociale in centro storico o nei mercati cittadini e per portare avanti il progetto a scuola con gli amici. I servizi offerti dai volontari hanno poi riguardato anche attività di consegna di medicinali, spesa, buoni spesa e buoni viaggio. Ed ora ci spostiamo oltre il confine provinciale ed esattamente andiamo a Fabriano per parlare di una grave crisi aziendale, quella dell'industria elica, decisa a trasferire come ben sapete l'azienda in Polonia creando 400 esuberi di personale. Una situazione che tocca da vicino anche tanti lavoratori della provincia di Pesaro Urbino. Ce ne ha parlato questa mattina l'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi, ospite di Paolo Pagnini nel salotto di Casa Rossini. Qui non è una normale crisi aziendale perché una crisi aziendale la si affronta sedendosi intorno al tavolo dicendo noi purtroppo abbiamo meno lavoro, purtroppo abbiamo una crisi in corso, purtroppo dobbiamo diminuire i costi, di conseguenza dobbiamo anche in qualche modo rientrare con una parte di personale. Allora ci si sede al tavolo, vediamo un po' quanti esuberi, magari si parte dai più anziani che scivono verso la pensione, alcuni altri che vanno in cassa integrazione. Qui parliamo di un'altra situazione, di una scelta aziendale di altro tipo, cioè la società Eleca ha comunicato a tutta la collettività, a noi regione ma a tutti i dipendenti, la volontà di delocalizzare. Come dire, in questa fase economica mondiale, Eleca opera a livello mondiale, diciamo così, per il suo settore, noi abbiamo bisogno di ridurre i costi, ma non in generale e di conseguenza preferiamo operare all'estero, in questo caso in Polonia, dove i costi sono più bassi, il personale costa meno e quant'altro. Cioè è una scelta ancor più dolorosa, se mi permetti, forse ancor più discutibile, sulla quale però è anche difficile intervenire. È più difficile intervenire, perché non si tratta di dire 500 dipendenti e dobbiamo fare a meno di 100. Vediamo un po' chi sono questi 100, i meno sofferenti magari, quelli che sono più vicini, ripeto, alla pensione. Qui si tratta che di 600 dipendenti, 580, ci sono esuberi per 409. 409 esuberi vuol dire desertificare un intero territorio. Quindi è una crisi praticamente grave. Allora il minimo che un assessore al lavoro fa va a incontrare quei dipendenti e solidarizza con loro. Poi incontra anche l'azienda cercando di farla ripensare questo tipo di politica. Infatti il lunedì il Presidente Acquaroli ha convocato per lunedì i sindacati, vuole ascoltare la voce dei dipendenti, dei lavoratori. Poi successivamente ovviamente chiamerà anche l'azienda. Vediamo se c'è in qualche modo la possibilità di intervenire. È in arrivo un contributo economico per il sostegno e il rilancio delle attività delle guide turistiche abilitate di Pesaro. Ad annunciarlo è stato il Vice Sindaco Daniele Vimini dopo il via libera arrivato dalla Giunta. 15 mila euro le risorse del fondo Covid-19 che l'amministrazione ha deciso di destinare ad uno dei settori più colpiti dall'emergenza sanitaria. Le guide turistiche e naturalistiche che potranno godere di questa misura devono essere residenti nel territorio del Comune di Pesaro, in possesso del Codice Ateco e inseriti nell'elenco Guida Turistica presente nel sito della Regione Marche. Anche Pesaro si accoda le manifestazioni nazionali e regionali nate per promuovere il disegno di legge DDL Zan che ha come relatore Alessandro Zan. I giovani democratici della provincia di Pesaro Urbino saranno presenti al fianco di Arcigheia Gora Pesaro Urbino sabato 15 maggio in piazzale Lazzarini alle ore 16 per dimostrare l'impegno e l'importanza con il quale appoggiano questa causa. Con la mostra Luciano Ventrone, il pittore dell'iperbole a cura di Vittorio Sgarbi presso la sede del Castellare di Palazzo Ducale, la città di Urbino apre la stagione culturale 2021. L'inaugurazione si terrà sabato 15 maggio alle ore 17.30. La mostra sarà a ingresso gratuito e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.00. Sempre sabato alle 18.30 verrà inaugurata anche la riproduzione della tomba di Raffaello nella chiesa annessa all'ex convento dei Carmelitani Scalzi dedicata alla Santissima Annunziata. L'allestimento è stato curato da Vittorio Sgarbi. E prenderà il via con la prima conferenza fissata per mercoledì 19 maggio la rassegna di incontri intitolata A ragionar di Dante per raccontare il divin poeta e la sua straordinaria personalità. 13 appuntamenti all'aperto e in presenza in luoghi suggestivi del centro cittadino ma anche nei borghi di Fiorenzuola e Novilara. Era già partito il 25 marzo in occasione del Dante D con la magnifica lezione online di Gianni Delia e ora viene presentato nel suo programma intero. Si tratta del ciclo di incontri in presenza A ragionar di Dante, una iniziativa che rientra nel programma con cui Pesaro celebra i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Due gli appuntamenti fissati per il mese di maggio. Mercoledì 19 alle ore 18 nella corte di Palazzo Mosca la conferenza della musicologa Maria Chiara Mazzi e poi mercoledì 26 maggio sempre alle ore 18 agli Ortigiuli lo scrittore e critico Enrico Capodaglio parlerà dello sguardo francescano di Dante. Le altre conferenze, tutte a ingresso gratuito, andranno avanti fino alla fine di agosto con l'ultimo incontro della rassegna fissato invece per il mese di ottobre per il quale è prevista un Alexio Magistralis dello storico e stagista Luciano Canfora. Dante offre veramente migliaia e migliaia di spunti di riflessioni, di attualizzazioni, di ragionamenti storici, linguistici, letterari, filosofici insomma e diciamo una volta di più con questa rassegna che è promossa dall'Università della Diretta Libera in collaborazione con l'Assemblea Legislativa delle Marche. Voglio ringraziare anche Michela Vitri per il sostegno e per aver seguito dall'inizio questo progetto con noi, col Comune di Pesaro e tutte le istituzioni principali, la Fondazione Rossini, ovviamente i Comuni di Pesaro, l'Oliveriana, insomma tante istituzioni che concorrono, contribuiscono, ripeto, sotto la guida dell'Università della Diretta Libera e la Direzione Artistica, sapiente come sempre di Luciano Ferrati, a una serie di conferenze, di momenti di approfondimento, iniziato in realtà già nel Dante Lì, come ricorderete, con la Lectio Mercestralis di Gianni Delia e che proseguirà con appuntamenti imperdibili a un certo punto di vista, che inizieranno ovviamente in digitale ma che speriamo di svolgere anche prima possibile in presenza, passando da Enrico Capodaglio a Luciano Canfora, insomma testimoni locali e nazionali, comunque di valore assoluto, che ognuno metterà il proprio accento in dialogo anche con contributi artistici, letture, insomma sugli aspetti della vita, dell'opera di Dante ma soprattutto sul grosso patrimonio di Dante. Ci sono presenze importanti come quelle di Alberto Casadei o Luciano Canfora, ma gli altri non sono meno importanti anche perché sono ottimi i relatori e gli argomenti soprattutto sono assolutamente diversi e affascinanti, proprio per raccontare questo che viene definito la fonte inesauribile di Dante Alighieri, cioè se continuiamo ad ascoltare Dante, come sembra che sia, visto che dopo 700 anni ancora tutto il mondo lo celebra, Dante continua a parlarci di tante cose, tante cose che appartengono proprio a noi anche oggi, al nostro mondo, quindi parla di natura, parla di politica, parla di fede, parla di amore inevitabilmente, quindi tutti i temi che non possono sicuramente mai terminare nell'animo umano. Siamo arrivati alla fine di questa edizione del nostro telegiornale, questa sera però in prima serata alle 21.15 torna una nuova puntata della Nutrizionista Chilometro Zero, un bellissimo programma che vi racconta i prodotti ma anche il territorio della nostra bellissima provincia di Pesaro Urbino. A seguire alle 21.30 vi proponiamo questo approfondimento che abbiamo registrato nel fine settimana in collaborazione con l'associazione Amo Fossombrone e questo è il primo di una serie di appuntamenti che si svolgono appunto a tavola e che dibattono su temi ed argomenti riguardanti la città di Fossombrone. Ma vi ricordiamo anche che domani è giovedì e come di consueto arriva una nuova puntata di Insieme a Canestro. Vi ricordo che questa sarà l'ultima puntata di questa lunghissima e fortunatissima stagione, quindi domani alle 21.15 gli ospiti saranno Ario Costa, Luca Pieri e Camilla Cataldo. Grazie per averci seguito anche questa sera, l'informazione su Rossini TV torna domani alle ore 7.20 in diretta TV e Facebook con la nostra Rassegna Stampa.